come gli aggettivi della seconda classe anche i participi presenti hanno il genitivo plurale in ium laudantium laudantium sia al maschile femminile che al neutro presentano poi i casi diretti cioè nominativo accusativo evocativo plurale neutri in ia laudantia 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 esattamente come gli aggettivi della seconda classe un discorso a parte merita l'abattivo singolare che può uscire o in i o in i l'abattivo singolare esce in i se il participio usato come un aggettivo cioè quando ha funzione attributiva esce invece in e se è usato come sostantivo o con funzione di verbo grazie